Salve a tutti, Domenico Giordano. Questo è un video sui generis. Vi voglio raccontare un fatto che mi è accaduto il 10 luglio, poi vi spiegherò anche perché lo faccio così a distanza questo video. Una mia denuncia dell'accaduto è una considerazione. Il 10 luglio del 2021 mi imbarco con mia figlia sul volo Aeroflot Mosca-Napoli, un diretto, saliamo sull'aereo, la temperatura è molto bassa, chiedo alla Oster di poter alzare la temperatura perché mia figlia aveva freddo e era vestita il 10 luglio in maniera estiva. Non ricordo esattamente se mi abbia detto ora la abbassiamo oppure non si può abbassare. Il fatto sta che continuava a far freddo e rivolgendomi all'Oster dico è possibile una coperta? Mi dico no, non è possibile causa Covid. A che dico in economia c'è il Covid e in business no? Ma sono le regole, il biglietto lei l'avrà a letto, è previsto un certo kit e quant'altro. Dico che conosco bene le regole della business, periodicamente viaggi in business, conosco bene la situazione, quindi le chiedo gentilmente di darmi una coperta per la bambina a sette anni a freddo. Vi faccio un sunto, la chiacchierata per i primi dieci minuti è molto tranquilla da parte mia, spiegando le necessità di dare una coperta a mia figlia. L'Oster si muove nelle sue due tre regole, continua a dire no, non posso, non posso, non posso. Dopo dieci minuti il mio tono comincia a crescere, ad alzarsi e incomincia a perdere la pazienza. Con uno sforzo per contenermi, perché mia figlia aveva freddo, dico guardi, e in più avevo anche un gambaletto post gesso, stavo in piedi anche, a che dico signora se non me lo da lei vado io a prendermela in business, ma lei poi troverà i carabinieri giù e questo non si può fare, dico signora faccia ciò che vuole, io per mia figlia devo trovare la coperta. Con un tono molto fastidioso, ma no non si può, dico signora lei faccia ciò che vuole, io per la coperta mia figlia, quindi o me la da lei o vado a prenderla io. Avviso il comandante, ritorno, no non si può, dico che signora io vado a prendere la coperta, vado saltando su una gamba in business, c'erano posti libri, quindi non ho tolto la coperta nessuno, prendo la coperta, la do a mia figlia, la signora viene, dandomi un foglio sul quale sono scritte le regole, che opportunamente metto da parte, mi fa una foto con la coperta, dico prego questa è la coperta, giù troverai i carabinieri, dico signora benissimo, la faremo a restare, tutto ciò che vuole, io per mia figlia non ho timore di nulla, quindi se mi fa restare benissimo, passeremo le vacanze in carcere. Questo è l'accaduto, la cosa che io denuncio, la cosa che, sulla quale ci ho riflettuto dopo, è l'indifferenza totale dei passeggeri intorno a me. Fermo restando, io ho parlato in russo con l'hostess, parlo russo abbastanza bene, quindi il discorso è stato molto chiaro, intorno a me c'è non sia dei russi che degli italiani, nessuno ha speso una parola, nessuno. Dietro di me c'è una signora che sicuramente entrando sull'aereo ha preso la coperta dall'abbisi e ha coperto la figlia, perché l'ha coperta, era dell'abbisi e non chiedo che l'abbia portata da casa. Anche quella signora che avrebbe potuto dire, ma guardi signora l'ho preso anche io la coperta, necessità di bambino, non ha detto niente, il signor parlava italiano. Quindi di fronte a questi fatti elementari, questa assenza di intelligenza, di coraggio di dire qualcosa, che l'hostess mi abbia minacciato eccetera, zero, non mi interessa. ma l'indifferenza degli italiani e dei russi, quindi non ha importanza in passaporto, delle persone che erano sull'aereo, che hanno visto tutto, hanno assistito a una mezz'ora di discussione inutile perché si parlava del nulla e nessuno ha detto niente. Allora, quando noi continuiamo a stare zitti di fronte a un accaduto come questo, questa è una banalità, io l'ho risolta, nonostante le minacce l'ho risolta. Ma quando noi siamo indifferenti e poi ci lamentiamo, come stiamo zitti? Quindi quando non abbiamo il coraggio di denunciare, dobbiamo avere il coraggio di starci zitti quando il problema ci tocca. Parlo di questo accaduto del 10 luglio, oggi a dicembre, perché sono accaduti altre cose, altri eventi simili, dove finché non sei toccato tu il problema non c'è, ma sai, non so, da qua, da là. Quando la persona ha toccato il problema direttamente, è stata vittima dello stesso problema, allora c'è una reazione. Allora, siccome sono stati il mio evento personale, l'accaduto a luglio, poi altri due eventi qui a Mosca, dico, signori, non dobbiamo reagire solo quando siamo toccati noi direttamente. Noi viviamo in un contesto sociale e dobbiamo reagire anche per il bene degli altri. Perché finché rimaniamo egoisti non faremo nessun cambiamento. Questa è la mia denuncia, che ha compreso anche delle considerazioni. Che vogliamo cambiare qualcosa? Iniziamo dalle piccole gesti, da richiedere un po' di, come possiamo dire, di buonsenso. Sarebbe stato bello che uno o due persone avessero preso, non la mia parte, ma avessero preso la parte della verità, di una giustizia. Fosse stata la business piena, non ci sono coperte. Ok, ma i posti vuoti c'erano. Quindi, un dispiacere umano. L'ossi ha fatto il suo lavoro, ha due regole, la rispettate, è buon per lei. Oltre non va. Ma chi stava intorno, anche i professionisti, questo silenzio è proprio brutto. Ma che vi devo dire? Arrivederci, un piccolo sfogo e considerazione, perché dobbiamo reagire anche prima che ci tocchino. Arrivederci.